Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio, ma l'Avellino, come tanti altri club, è già entrato nel vivo delle trattative, ma con le dovute attenzioni è senza fretta. In settimana sono stati avviati i primi dialoghi con alcuni giocatori e relativi entourage per trovare le rede di Simone Ghidotti tra i pali. Tanti sono i nomi, ma con il passare delle ore alcune piste si sono raffreddate, come quella per Donnarumma del Padova. Al tempo stesso però si sono avviati diversi dialoghi con gli Annarilli, che sembra essere sulla cima dei desideri. Non sarà semplice, gli Annarilli piace anche in Serie B, ma l'Avellino lo ha tentato e lo tenta anche lo Spezia, che però si tira indietro e possono aumentare le chance di vederlo in Pimpinia. Da capire però chi potrà prendere il posto di Pasquale Pane come secondo portiere, visto che il senatore Biancoverde è stato comunicato di non rientrare più nel progetto tecnico. Ovviamente adesso l'Avellino lavorerà principalmente all'uscita, visti tanti rientri da sistemare, non è da escludere che alcuni di essi vengono utilizzati come pedine di scambio. Ecco perché è cruciale questa fase, anche perché i giocatori biancoverdi hanno appeal e si possono trovare le giuste chiavi interpretative negli scambi. Ovviamente l'Avellino farà le giuste valutazioni sia in entrata che in uscita. In attacco si lavora a trovare un giocatore simile a Sgarbi, tornato a Napoli, e si cerca di trovare una sistemazione per Marconi, il giocatore più pagato della Serie C, ma anche quello meno incisivo. Da valutare anche Cionec per la difesa, visto che il calciatore potrebbe trovare altre sistemazioni, ma la sua posizione è ancora in fase di valutazione.